Zoe Isabella Kravitz è un'attrice e cantante statunitense Nata a Venice Beach, Los Angeles, è la figlia del cantante Lenny Kravitz e dell'attrice Lisa Bromey, sua nonna paterna era l'attrice Raxi Roker Entrambi i suoi genitori sono di discendenza afroamericana ed ebrea Ha studiato alla Miami Country Day School di Miami, Florida, e alla Rudolf Steiner School a Manhattan, New York Per un breve periodo ha studiato recitazione alla prestigiosa SUNY Purchase Acting Conservatory Il suo debutto cinematografico avviene nel 2007 con un piccolo ruolo nel film di Scott X Sapori e di Sapori Nello stesso anno recita al fianco di Jodie Foster nel Buio nell'anima di Neil Jordan, nel ruolo di una giovanissima prostituta È apparsa nel videoclip del singolo DJZ Uno No, e inoltre ha partecipato al progetto We Are The Ones, video online di We.i.am a supporto della campagna presidenziale di Barack Obama Nel 2009 è tra gli interpreti del dramma indipendente Gli ostacoli del cuore, dove recita al fianco di Pierce Brosnan, Susan Sarandon, Carrie Maligon e Aaron Johnson L'attrice è la voce della band di Philadelphia Elevator Fight Oltre ad esibirsi nella zona di Philadelphia, la band è salita sul palco del Philadelphia S. Roots Picnic nel giugno del 2009 dove si è esibita al fianco di gruppi come The Roots, TV On The Radio e The Black Keys La Kravitz è anche il volto della fragranza di Vera Wayne Princess, compare sul sito web e nella pubblicità per il marchio Nel 2010 recita In 12 di Joel Schumacher, tratto dall'omonimo romanzo di Nick M. C. Donnell, e Cinque giorni fuori, adattamento cinematografico del romanzo di Ned Vizzini Mi ammazzo, per il resto tutto ok Nel 2011 interpreta la mutante Angel Salvador nel film X-Men, l'inizio, mentre dal 2014 interpreta Christina Indavergente nei film successivi della saga Il 29 giugno 2019 si è sposata, nella villa parigina del padre, con l'attore Carl Glusman Nelle versioni in italiano dei suoi film, Zoe Kravitz è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al Calane